Il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Pesaro e Urbino insieme al comando di Acqualagna rendono nota un'importante operazione di vigilanza e contrasto del lavoro sommerso svolta nella tarda serata del 16 giugno scorso. La vicenda fa riferimento al novembre 2019 quando i militari, dopo un controllo eseguito presso un laboratorio gestito da imprenditoria cinese furono contestati a carico del titolare dell'azienda carenze in ordine di sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro, tali da provocare la misura cautelare del sequestro preventivo dell'unità produttiva. Inoltre è stato trovato anche un lavoratore in nero per cui fu anche emesso un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in quanto la presenza di lavoratori regolari era pare oltre il 20% della manodopera. In aggiunta sono stati trovati anomalie negli alloggi posizionati ai piani superiori dello stabile riscontrando la presenza di loculi abitativi ricavati mediante l'installazione di pannelli in legno. Le indagini poi si sono concentrate anche sull'individuazione di un'altra località lavorativa e un altro laboratorio di cui a capo è emerso che il titolare dell'azienda non era altro che un prestanome della stessa, ricoprendo il ruolo di gestore e datore di lavoro affidato a un cittadino cinese attualmente indagato e assunto come dipendente della stessa società. Dopo aver monitorato i turni dei laboratori e i movimenti del titolare, la procura della Repubblica di Urbino è emanato un mandato di intervento sull'azienda. Dall'accesso ispettivo eseguito il 16 giugno all'interno del laboratorio tessile sono stati sorpresi ben cinque lavoratori di cui due non regolarizzati a norma di legge, oltre che sottoposti a grave carenze sotto profilo della sicurezza. Anche questo secondo laboratorio è stato sequestrato in quanto presentava anche visibili infiltrazioni di acqua all'esterno, provocando la presenza di umidità all'interno degli alloggi. Le irregolarità riscontrate, le condizioni lavorative ed alloggiative degradanti e turni di lavoro lunghi sono risultate essere le condizioni del reato di sfruttamento, motivo per il quale il titolare è stato arrestato e condotto in carcere a Villa Fastigi. Nel corso del servizio sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro per impiego dei lavoratori in nero. Sono ad oggi bene 10 le persone arrestate.